Aumentano i reati online ai danni dei minori e quanto emerge dal bilancio dell'attività condotta negli ultimi 12 mesi dal comparto di polizia postale e delle comunicazioni di Biella. Delle 38 persone indagate dagli specialisti della Polposta, 15 erano sospettati di reati nell'ambito della pedopornografia e della tutela dei minori, ma rimane anche alta l'attenzione nei confronti dei reati informatici. Sono 11 le persone perseguite per frode online e quelli contro la persona, gli indagati, sono 12. In totale la polizia postale nel corso dell'ultimo anno ha ricevuto 61 denunce. Il contributo dato in maniera di formazione e prevenzione resta alto. Gli agenti hanno tenuto 5 incontri virtuali con altrettanti istituti scolastici biellesi. Oltre 1.200 sono stati gli studenti coinvolti in queste iniziative.